Il Papa Paolo VI era il maestro, Romero era il discepolo, soprattutto nel tema della evangelizzazione e della liberazione. Ecco perché non troviamo in Romero nessuna idea fuori della doctrina della Chiesa, perché la guida per lui era la doctrina del Papa Paolo VI. D'altra parte, quando ha incontrato Romero il Papa la prima volta, era l'anno 74, quando è diventato vescovo di un auxiliare di San Salvador. In questo momento il Papa era molto vicino a Romero. Dopo la seconda visita era quando Romero era diventato arcivescovo, quando era tanto difficile per lui il ministero come pastore della nostra Chiesa in San Salvador. Il Papa ha detto a Romero, comprendo la difficoltà che lui affronta come pastore, coraggio, lei è chi comanda. Romero ha scritto questa cosa nel suo diario, ci sono le fotografie di questo momento meraviglioso. E sempre ha trovato in Paolo VI un amico, un maestro, una guida per il suo ministero. Grazie. Grazie.